La fede non è un prodotto finito. È un seme che ha bisogno di essere annaffiato quotidianamente per accorgerci della sua crescita. È un'espressione del rapporto personale di fiducia, confidenza e dedizione totale ad un potere che ci sovrasta. È sempre in movimento. Dubbi, paure e problemi fanno parte del viaggio. La fede vera infonde coraggio per superare gli ostacoli imprevisti della vita e spinge sempre a servire e ad amare. La fede non è solo una strada su cui cammini. È un percorso che crei mentre cammini. La fede non è interpretatione Grazie a tutti.